e tornate al metatarso pensate anche allo spazio del ginocchio dell'anca e fino all'articolazione sacroiliaca quando sollevate la gamba se non sapete dove è il punto limite di flessione del ginocchio senza che la persona senta del male soprattutto nelle persone anziane partite sempre da 90 gradi e in questo modo non c'è pericolo per la persona gradualmente e praticamente gradualmente potete aumentare la flessione se non ha dolore non dimenticate i muscoli della gamba è una buona idea mettere il piede giù praticamente per poi riuscire a mettere la mano sotto dal paziente se potete raggiungere l'altra parte se non ci riuscite va benissimo anche una mano laterale per stabilizzare il linio ancora spostandosi in su a livello lontana quindi contro processi trasversi o anche sui processi spinosi e anche i muscoli della gamba 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 treat them if necessary there's a styloid process just for osteopaths but most of the strain for the operator is between his forearm and the forearm of the patient not here here is your legs ok that's where the work to hold the patient comes from here in quel modo lì come vi appena mostrato come vengono fuori i problemi quindi guardate cercate di sentire le strutture sottoclavicolari sopra clavicolari l'articulation of the humerus l'articulation del glenoid and around the suprascapular area l'infrascapular area intorno al suprascapolare l'infrascapolare close to the table under the nearer armpit vicino alla scelta quindi sempre vicino all'T no non lavorate lontani fino a che a meno che non sbagliate e potete farlo in maniera sicura cercare di sentire tutte le inserzioni attorno alla scatola tutto attorno alla scatola e assicuratevi che il movimento è libero stabilizzate ancora la scatola stabilizzate ancora la scatola non è necessario mettere la gamba sotto quella per forza è necessaria cercate andate a cercare cercate cercate praticamente molti altri extra things we can put in I'm just showing you the most basic si potrebbero mettere aggiungere tante altre cose ma mi va bene già così intanto many of you were doing all sorts of things like that it's not necessary most of you facevano movimenti e anche assumevano posizioni diciamo in questo modo come l'ha mostrato come l'ha mostrato quando è passato dai retteni now for the articulations themselves adesso sulle articulazioni di per se stesse provo there's a line of tension between the thena and hypotena and my finger around the vertebra praticamente c'è una linea di tension tra l'eminenza tena e hypotena e la vertebra on the back of the head makes it very powerful molto potente without upsetting the patient and without endangering the patient praticamente senza creare problemi o mettere in carico il paziente in the end little John treated almost all neck problems using these maneuvers praticamente alla fine il disegno di tre giorni trattava con questa tecnica tutte i colli praticamente tutte le problematiche del collo and if anything just a little extra is needed when you have this position of resting the skull it can reinforce your fingers praticamente se c'era qualcosa di extra e trovava qualcosa di extra praticamente se potete tornare anche questa tecnica praticamente il movimento è stato appoggiando la testa a voi e con le dita ok ok so go back over and the time that's left ritornate anything anything that you saw perhaps differently done when I just demonstrated on the skeleton praticamente e fate perfettamente quello che abbiamo mostrato adesso sullo scheletro for example è stato appoggiando la testa a voi